Eccoci qua, ciao a tutti, in questo video voglio parlarti del fascino della seduzione. Che cos'è il fascino della seduzione? Il fascino della seduzione è la capacità di poter sedurre, poter conquistare un po' il potere della seduzione. Il potere della seduzione che tutti noi abbiamo e che tutti noi possiamo utilizzare nella nostra vita quotidiana. Intanto ti ricordo però di iscriverti al mio canale YouTube, ovviamente canale YouTube Massimo Terramasco, ma anche agli altri miei canali, crescita personale, felicità benessere e autostima. E allora veniamo al fascino della seduzione. Allora tutti noi abbiamo il potere di sedurre, abbiamo il potere di conquistare e questo potere va liberato, va liberato perché è dentro di noi. e abbiamo il potere in prima istanza di sedurre noi stessi, perché se non impariamo a conquistare noi stessi, se non impariamo a sedurre noi stessi, cioè se non impariamo a diventare la migliore versione di noi stessi, perché sedurre se stessi vuol dire imparare a diventare veramente la migliore versione di se stessi, non riusciremo a sedurre neanche nessun altro. Per sedurre dobbiamo avere alcune cose fondamentali. Dobbiamo avere intanto, diciamo, due cose fondamentali, che sono una buona percezione di se stessi, che è quello che viene definita autostima. Per capire che cos'è l'autostima dobbiamo renderci conto di che cos'è la disistima, perché noi per capire il verso dobbiamo capire l'inverso. Il verso è l'inverso della stessa cosa. Quindi la disistima è rappresentata da che cosa? La disistima è rappresentata da tre pensieri prevalenti o pensieri dominanti che possono manifestarsi nella nostra vita. Questi pensieri dominanti o prevalenti, diciamo, che in qualche modo possono manifestarsi nella nostra vita, sono il pensiero di incapacità, cioè ritenersi usciti difettosi dalla fabbrica, il pensiero di impedimento, essere impediti nel superare un ostacolo, e il pensiero di sventura, cioè ritenere di essere nati sotto una gattiva stella. Ecco, noi se vogliamo autostima dobbiamo mettere gli antidoti, cioè i pensieri inversi, perché ciò che pensiamo va a determinare praticamente ciò che siamo. Quindi devi mettere dei pensieri di capacità, devi mettere dei pensieri di potenza nel superare gli ostacoli, e devi mettere dei pensieri di fortuna. Perché certo è che se tu pensi di essere sfortunato, di essere sventurato, energeticamente attrai eventi che ti porteranno in quelle situazioni. Io credo che veramente questi pensieri facciano sì che tu possa passare sul Ponte Morandi di Genova, a quel giorno che il ponte cadeva, e in quella ora precisa. Sono i nostri pensieri che determinano, anche proprio a livello carmico, le azioni che noi facciamo. E la vita ci porta a vivere delle situazioni di questo genere. Per quanto riguarda poi le relazioni sentimentali, dobbiamo fare la scelta giusta. Ovviamente una donna che fa una scelta, una donna che ha bassa autostima, magari sceglierà un uomo di religione musulmana, ad esempio. Non perché ce l'ho con la religione musulmana, ma perché comunque l'Islam valorizza poco la donna, anzi la mette in secondo piano, in seconda battuta. Per cui andrà a scegliersi proprio una persona di questo genere. Quindi noi dobbiamo imparare a non essere, come dire, a fare scelte giuste. Le persone che non ci valorizzano, le persone che non ci danno quello che desideriamo, dobbiamo di fatto toglierci dai piedi. Quindi noi dobbiamo, cioè una persona che autostima, una donna che autostima, ad esempio, non starà mai con un uomo che la mette in secondo piano, che la mette, che dice tu sei donna e devi stare lì ad attendere. È vero che le persone di qualcuno poi ti dice, e vabbè ma se c'è il sito, ma io lo amo, io lo amo. Anche se mi mette lì, mi fa uscire col burka, io lo amo, io lo amo. Anche se mi fa mettere il vino, io lo amo. È vero che c'è il sentimento, ma vuol dire che non c'è il sentimento per noi stessi. Questo è il concetto, no? Perché se una persona ama se stesso, l'amore per se stesso diventa prevalente sull'amore per l'altro. Tu non puoi, cioè nel senso che... E questo è il concetto che uno dovrebbe capire. E questo è il concetto che uno dovrebbe capire. Perché poi le risposte, ma io non lo amo, io non amo. Va bene, tu lo ami, ma vuol dire che non ami te stessa. Vuol dire che non ami te stessa. Questo è un concetto di fondo. Se una persona ama se stesso, poi ovviamente non è che bisogna generalizzare. Non dico che tutti quegli appartenenti alla religione musulmana sono uguali. Non sto dicendo questo. Però sto dicendo che a livello culturale è una cultura dove... Che poi magari, diciamo, valeva lo stesso in Italia nel 1800, nel 1700, per dire, no? Però, diciamo, è una cultura dove comunque, per cultura, per definizione, la donna viene disistimata. Viene messa in seconda battuta rispetto all'uomo. Viene messa in seconda battuta rispetto all'uomo. E quindi se uno ama veramente se stesso, a quello lì gli fa... Fuori dai maroni. Se uno ama davvero se stesso, non accetta che una persona la metta in secondo piano. Non accetta le briciole. Non accetta neanche, diciamo, di andare al parcheggio del cimitero con uno... Diciamo, non accetta neanche di andare al parcheggio del cimitero, però con uno... Con il quale vorrebbe avere una relazione. Insomma, se noi amiamo noi stessi, facciamo solo ciò che ci piace. E ciò che non ci piace, non lo facciamo. Ciò che non ci piace, non lo prendiamo in considerazione. Ciò che non ci dà piacere, lo lasciamo perdere. Questo è un concetto molto importante. È un concetto molto importante perché va a destrutturare completamente... Io lo amo, io lo amo. Perché quando una persona dice io lo amo, io lo amo di qualcuno che ti abbassa l'autostima o che ti tratta male, è semplicemente per il fatto che non ami te stesso. E se uno ti lascia, vuol dire che, diciamo, ci sarà una nuova rinascita, no? Perché nel momento in cui una persona ti lascia, finisce un ciclo e quando finisce un ciclo inizia un nuovo ciclo. E allora bisogna sempre festeggiare per una nuova rinascita. Se uno ti lascia, la cosa che bisogna fare è stappare una bella bottiglia di spumante e festeggiare la nuova rinascita che ci sarà presto. E questa è l'unica cosa che bisogna fare. Questo vuol dire darsi autostima, dare valore a se stessi. Mi lasci vuol dire che si chiude un ciclo e quindi rinasce un altro ciclo. Perché la nostra vita è ciclica. Ogni volta che un ciclo finisce, rinasce un ciclo nuovo. E questo è fondamentale. Tutto questo fa parte della vera autostima. Questa è la cosa fondamentale. È la cosa fondamentale. Un altro parametro molto importante che fa parte della seduzione è la confidenza in se stessi, la self-confidence. Cioè, oltre ad amare me stesso, devo credere profondamente di essere in grado di poter decidere e conquistare. Perché non potrò mai sedurre nessuno se io in primis penserò di non avere le skills, le competenze per sedurre. Questo è un qualcosa di fondamentale. Quindi è molto importante se noi vogliamo conquistare, se noi vogliamo sedurre una persona, avere questa credenza. Le credenze sono un po' i comandanti del cervello. Quindi, tornando al discorso precedente, autostima e sicurezza in se stessi sono le basi per sedurre, per sviluppare il fascino della seduzione, per sviluppare il potere della seduzione. Ovviamente dobbiamo anche avere un obiettivo preciso. Anche questo è un'altra cosa importante. Avere un obiettivo preciso è un altro punto fondamentale. Perché, come dire, io dico sempre, anzi Seneca diceva, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Ma è anche vero che tutti i venti possono diventare favorevoli per il marinaio che sa dove andare. E quindi, se noi sappiamo dove andare, se abbiamo un obiettivo preciso, possiamo poi sfruttare la situazione a nostro vantaggio per far sì di andare sempre verso la direzione in cui vogliamo andare. Quindi, una volta che sappiamo dove andare, noi possiamo spingerci e andare in quella direzione. E questo è un concetto fondamentale. Una volta che abbiamo definito un obiettivo preciso, dobbiamo, diciamo, dobbiamo perseguire questo obiettivo sviluppando il fascino. È ovvio che poi ci sono degli obiettivi che invece sono palesemente sbagliati. Ad esempio, voler riconquistare una persona che ti ha lasciata oggi è palesemente sbagliato. È un obiettivo sbagliato. Nel momento in cui uno ti lascia, tu devi assolutamente sparire e concentrati su di te. Perché è sbagliato proprio il principio. Se mi lascia oggi, e io oggi penso come faccio a riconquistarlo, sono un coglione. Sono un gran coglione. Perché oggi, se mi lascia oggi, l'unico pensiero che devo avere è come faccio a divertirmi, come faccio a trovare altre situazioni. Quello devo pensare. Poi, se capiterà un giorno, dopo passato un mesetto, diciamo, no, quello che è, ma dovrò dare dei segnali. Non esiste la tecnica del riconquisto. E ovviamente dobbiamo tenere presente poi che il fascino della seduzione è anche determinato dal fascino in sé. E il fascino in sé, che cos'è il fascino, se vogliamo, no? Perché poi abbiamo il fascino della seduzione, ma il fascino che cos'è? Il fascino è la capacità di esprimere la propria femminilità e la propria mascolinità per un uomo. Quindi avere fascino vuol dire, diciamo, saper esprimere la propria femminilità e la propria mascolinità. Poi, per carità, c'è chi preferisce la donna mascolina e l'uomo effeminato. Perché poi nel mondo c'è tutto, no? Ci sono donne che magari gradiscono un uomo effeminato e uomini che gradiscono una donna mascolina. Ma, come dire, quelli sono casi rari. Sono casi che statisticamente hanno poca, come dire, poca importanza, no? Se vogliamo veramente, come dire, essere seducenti e anche espressione di se stessi, dobbiamo cercare di sviluppare una donna alla propria femminilità. Come fa una donna a sviluppare femminilità? Non lo fa immignottendosi. Ecco qua è un'altra cosa che molte donne sbagliano. Pensano che essere femminili vuol dire essere mignottite. Non è vero. Non c'entra assolutamente nulla. Certo, essere femminili vuol dire avere anche un look femminile. Quindi la femminilità è tutto quello che differenzia dalla mascolinità. Il linguaggio non verbale femminile è molto diverso dal linguaggio non verbale maschile. La camminata di una donna femminile è diversa dalla camminata di un uomo, ad esempio. L'unica cosa di interessante, diciamo, che c'era di un certo libro era il titolo, no? Gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere. L'unica cosa interessante è il titolo. Ma il titolo fa capire che gli uomini, Marte, è il pianeta, non dei marziani, marziale, no? Quindi Marte era il dio della guerra, no? Quindi la mascolinità si esprime attraverso la marzialità, diciamo. E la marzialità non vuol dire essere un kamikaze, vuol dire anche avere buon gusto, eccetera. Però si esprime attraverso un linguaggio non verbale che tende alla sicurezza, tende a... Il maschio alfa, ad esempio, quando si siede occupa spazio, no? L'uomo si siede a gambe aperte per occupare più spazio, appoggia le mani per occupare più spazio, sta in piedi utilizzando una gestualità in modo tale da occupare spazio, perché in questo modo, diciamo, diventa, viene, tende ad essere percepito come maschio alfa. Il maschio alfa ha due caratteristiche fondamentali. È un leader di uomini e attrae naturalmente le donne. Quindi queste sono le caratteristiche del maschio alfa. E quali sono le caratteristiche della femmina alfa? Perché poi è interessante, no? La femmina alfa è la femmina che naturalmente attrae le donne. Beh, se dovessi dare un modello di femmina alfa, darei il modello di Marilyn. Marilyn, molti dicono, ah vabbè, ma no, non è stata una femmina alfa perché era fragile, eccetera. Io non so se Marilyn era fragile o non era fragile, non lo so. Però diciamo che a livello di comunicazione non verbale, a livello anche di capacità di sedurre, Marilyn non ha sedotto il catramista a cassa integrato, ha comunque sedotto industriali, il presidente degli Stati Uniti. Poi è certo che faceva l'oca, ma faceva l'oca. Marilyn non era un'oca, era una donna anche molto intelligente. Quindi a livello di comunicazione non verbale, ho messo anche un video qua dove, con Marilyn, secondo me, poi ce ne saranno altri, io sono rimasto alla preistoria, poi oggi non conosco l'espressione, ma dovessi dare un'icona, diciamo, di femminilità, dovessi dare un'icona di femminilità, direi Marilyn. Proprio come a livello di linguaggio non verbale, ovviamente. Perché una donna femminile è una donna che sa stimolare il desiderio, non che sa pagare i desideri. Perché diciamoci la verità, che tutte le donne possono appagare, diciamo così, ma se appagano e basta, non vengono considerate né femminili, non vengono neanche considerate donne attraenti. Perché diciamo la verità anche, cioè, chi, quale uomo, ad esempio, parlando di auto, investirebbe soldi, energie, attenzioni, per comprarsi l'auto che già possiede? Non lo farebbe mai. Se già hai acquisito un'auto, non è che, e anche il tuo desiderio diminuisce, perché comunque, beh, a meno che non puoi, a meno che non hai i soldi per mettere la benzina, tu quell'auto lì la puoi usare quando vuoi. Certo, potrai comprarti anche l'auto migliore del mondo, ma dopo un po', diciamo, diventerà sempre meno interessante, sempre meno attraente. Perché gli uomini si basano sul desiderio? Il maschio si basa, funziona sul desiderio, e quindi ha bisogno di desiderare, quindi l'auto che non può permettersi, l'auto che rappresenta un sogno per lui, quello rappresenta l'oggetto del desiderio, è lì che investirà, che risparmierà, che cercherà di capire come fare per potersela acquistare, fin tanto che non l'avrà acquisita, quando l'avrà acquisita, poi perderà un po' di energia, anche se, se però ha fatto molti sacrifici per acquisirla, beh, all'inizio perlomeno quell'auto lì sarebbe interessante, cioè se tu per comprati un'auto risparmi, ti privi di tante cose, eccetera, una volta che quell'auto te la sei comprata, beh, stai attento che non te la rubino, ad esempio, stai attento a quando posteggi a non andare a sbattere, stai attento a non fare incidenti, se c'è una minima traccia di cosa la sistemi, perché gli hai dedicato molte energie, e il maschio, diciamo, funziona in questo modo, quindi, una donna veramente seduttrice, è una donna in grado di stimolare il desiderio, ad esempio attraverso la femminilità, ma poi non appagare quel desiderio, lasciare dubbi, lasciare incertezze, stimolare praticamente in questo modo, l'interruttore del desiderio, perché soltanto così, diciamo, potrà, potrà, diciamo, essere seduttiva, soltanto così potrà conquistare, altrimenti non conquisterà nessuno, altrimenti, sarà una donna che verrà utilizzata prevalentemente come una ruota di scotta, poi magari troverà pure chi sia la sposa, ma mai un uomo di qualità se la sposerà, potrà sposarsela al catramista a casa integrato senza fissa dimora, potrà, 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 diciamo, sposarsela a tizio, cario, semprogno, diciamo, ma mai un uomo di qualità, e poi dobbiamo tenere presente, però, che non tutti, cioè, allora, qual è il problema delle persone? Il vero problema delle persone è che quando va male una storia d'amore, si sentono falliti, ah, io ho fatto tutto con tizio, ah, e non mi vuole tizio qua, mi ha lasciato tutto, basta! Basta avere questi, questi, diciamo, come dire, pensieri nefasti, sono pensieri nefasti, se tizio o caio, diciamo, non si comportano nel modo giusto, non dovete dare energie, non dovete dare energie, se oggi uno vi lascia, voi andate a letto con un altro, uscite con un altro, fate qualcosa con un altro, non state lì a, soprattutto, la cosa fondamentale è non dedicargli pensieri, e invece la cosa peggiore, ah, mi ha lasciata, ma perché mi ha lasciata, ma ero solo una donna così bella, ma perché io lo amo tanto, ma perché mi ha lasciata, per te va a lasciare un'altra, no, invece ha lasciato me, ma come mai, ho fatto tutto, gli facevo anche le lasagne, ma perché mi ha lasciata, ecco sì, questo è, diciamo, questo è quello che bisogna imparare, questo è quello che bisogna imparare a fare, se non impari a fare questo, non avrai assolutamente nessuna possibilità, diciamo, di conquistare qualcuno, all'accanimento è veramente la cosa peggiore, perché ripeto, ma l'accanimento da cosa deriva? deriva soltanto da un fatto, deriva soltanto dal fatto che non amiamo noi stessi, è questa l'unica cosa che ci fa, per così dire, innamorare della persona sbagliata, che non amiamo la persona giusta, e qual è la persona giusta? La persona giusta siamo noi stessi, cioè questo, ma qual è la persona giusta da amare? È semplice, è me stesso, questa è l'unica persona sicuramente giusta che dobbiamo amare, poi le altre dobbiamo capire, diciamo così, ma l'unica persona giusta che diciamo, che dobbiamo amare, è noi stessi, siamo noi stessi, nell'interazione con le persone, è una cosa allucinante, le persone che dicono, io non sono mica gelosa, lo dicono a quello che la fa in gelosia, ma io non sono mica gelosa, io non sono gelosa, allora, se uno, per fare un esempio, se uno ti fa in gelosia, c'è anche di farti in gelosia e va con altre donne, tu non è che devi dire, io non sono gelosa, devi andare con altri uomini, devi avere la schiera di uomini, devi fargli tante corna che anche in una cesta di lumache si ritrova al mattino da tutte le corna che ha, perché, quello che lo dico sempre, quando voi interagite con una persona, non dovete mai dargli l'esclusiva, quando interagite con una persona, non dovete mai dargli l'esclusiva, la cosa che poi, ci sono persone che sbagliano tutto e poi si lamentano che le cose li vanno, ma mi ha lasciato, mi ha lasciato, e ti ha lasciato perché hai fatto tutte le cose sbagliate e nel momento ho sbagliato, cioè fare le cose giuste vuol dire, intanto amare se stessi, quando interagisci con un'altra persona non gli dai mai la priorità, non gli devi mai dare la priorità, devi tenerli nel calderone due, tre, quattro, cinque persone, fin tanto che queste non si, fin tanto che una non fa passi decisivi, ma quello che dicevo ieri, fare un passo decisivo non vuol dire una frequentazione, cioè non vuol dire avere una frequentazione, perché io posso frequentare anche cinquanta persone in parallelo, le vedo una volta ogni tanto, ma l'assurdo è credere di essere fidanzato, allora fidanzamento, care malgascione, care carampane, vuol dire promessa di matrimonio, uno può dire, una donna può dire, sono fidanzata, quando un uomo gli ha detto, guarda, al mese prossimo ci sposiamo, andiamo a pubblicare le cose, allora sei fidanzata, perché il fidanzamento, invece c'è gente che dice, ah io sono stata fidanzata a dieci anni, ma cosa? Stocca! Non sei stata fidanzata neanche un giorno, non dieci anni, perché non puoi essere fidanzato, cioè per definizione, il fidanzamento non è che può durare dieci anni, non è che uno può, ah sì, prometto che ti sposo tra quindici anni, quello non è fidanzamento, oppure è una convivenza, adesso parlo di matrimonio, ma è la convivenza equivalente, quindi non è un fidanzamento, il fidanzamento è la promessa di matrimonio, poi uno può sostituire il matrimonio con la convivenza, eccetera, quello è il fidanzamento, tutto il resto è una frequentazione, se tu frequenti una persona che vedi, che ne so, due volte alla settimana, è una frequentazione, non è una relazione, la relazione prevede, appunto, relazione matrimoniale, o relazione di convivenza, o relazione di fidanzamento, che vuol dire, è un progetto di vita in comune, tutto il resto è frequentazione, e le frequentazioni, uno può farne anche 500.000 di frequentazioni, io posso frequentare tutte le persone che mi pare che mi piace, essere una che dice, io sono stata fidanzata 11 anni, non è vero, non puoi essere stata fidanzata 11 anni, non puoi essere stata fidanzata 11 anni, non esiste, cioè per definizione tecnica, il fidanzamento può durare qualche mese, 6 mesi, perché è una promessa, il fidanzamento, andatevelo a vedere, leggere sulla Treccani, è una promessa di matrimonio, quindi, una che dice, sono stata fidanzata 11 anni, e si è presa per il culo da sola 11 anni, credendo di essere stata fidanzata, quando non è stata fidanzata, e poi, se lui ti lascia all'undicesimo anno, è normale che succeda, è normalissimo che succeda, perché il fidanzamento, non esiste, fidanzamento di 11 anni, non esiste tecnicamente, non è possibile, per definizione, ripeto, il fidanzamento è una promessa di matrimonio, che non puoi fare una promessa da qui a 11 anni, cioè non è che puoi dire, ci fidanziamo oggi, tra 11 anni ti sposo, perché tra 11 anni, già non sappiamo cosa succederà domani, tra 11 anni possono già essere atterrati gli alieni, aver occupato il pianeta, tanti cambiamenti che possono avvenire, in quel lasso di tempo lì, quindi molte persone credono alle favole, credono, sono stata fidanzata, poi mi ha lasciato, ma non è che sei stata fidanzata, e poi ti ha lasciato, non sei mai stata fidanzata, e a un certo punto, hai sempre avuto una frequentazione, durata anche 11 anni, e poi lui se n'è andato, e finisce lì, quindi bisogna imparare ad avere una visione corretta della realtà, l'unico modo per ottenere dei risultati è avere una corretta visione della realtà, se non hai una corretta visione della realtà non hai nessuna possibilità, veramente è importante avere una corretta visione della realtà se vogliamo esprimere la nostra capacità di seduzione, e tutti noi abbiamo la possibilità di sedurre, tutti noi abbiamo la possibilità di conquistare, ma dobbiamo partire esattamente da noi stessi, se non partiamo da noi stessi, non possiamo assolutamente conquistare nessuno, e poi certo che se uno viene lasciato, dopo un po' può anche contattarlo tra un mese, ma nel frattempo che in quel mese lì, si è andata a letto almeno con 4 o 5 altre persone, per sperimentare come sono andate le cose. Bene, comunque per questo video è tutto, seguitemi sul canale YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube Massimo Terramasco, ma non soltanto il canale YouTube Massimo Terramasco, io ho 4 canali, anche il crescita personale, con Massimo Terramasco, felicità benessere, amore autostima, e basta, quindi 4 canali, andate ad iscriverti ai 4 canali, troverete più di 23.000, 24.000 video, su varie tematiche, quindi iscrivetevi, attivate la campanella, mi raccomando, così riceverete le notifiche dei nuovi video, e poi eventualmente chi volesse approfondire le tematiche sui canali, c'è anche la possibilità di abbonamento, con diversi livelli di abbonamento, che vanno da 1 euro a 100 euro, che consentono di poter approfondire, poter anche affrontare le tematiche più individualizzate, quindi chi volesse una situazione più completa, deve andare ad abbonarsi al canale, al canale, ripeto, ci sono diversi livelli di abbonamento, c'è ad esempio l'abbonamento Master Consulting, che prevede anche una consulenza telefonica di 20 minuti, però bisogna andare sul canale YouTube Massimo Terramasco, sezione abbonati, e scegliere l'abbonamento che preferite, ci sono invece sul canale Crescita Personale con Massimo Terramasco, che è un altro canale, ci sono degli abbonamenti per poter far domande nelle live, quindi saranno live dedicate ad abbonati, sempre sul canale YouTube Crescita Personale con Massimo Terramasco, e potrete abbonandovi, con un costo veramente ridicolo, insomma meno di 10 euro, 9 euro e qualcosa, potete fare domande nelle live. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao! Grazie! 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 Grazie!